Che cosa sta succedendo? Niente. 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 Devo ricordarti chi sono io. Io lo so chi sei tu. Tu sei la stessa persona che mi ha rovinato la vita. Io ti avrei rubato la vita. Ti ricordo che tu ti sei messa contro di me e i miei affari. Il potere è una cosa divertente. Fa impazzire la gente. Quindi, ti ho solo voluto mostrare chi è che aveva il vero potere. Quindi abbiamo un problema. Bene. La vedi quella porta? Lì dietro ci sono due persone e ti stanno aspettando. Adesso chi è che ha più potere? Dimmelo. Oh, intendi quei due ragazzi che già sono morti nel corridoio? Che peccato.